Andiamo avanti e parliamo di strade. Altra buona notizia, Autopaglio e Siena Grosseto, arrivano i soldi, manutenzione per la superstrada ad alto rischio, scrive Repubblica Firenze, il pedaggio, un dubbio, una domanda, mezzi alternativi per finanziarci, dice l'ANAS. Sentiamo su questo le dichiarazioni durante la presentazione di questi finanziamenti del Governatore Rossi e del Presidente dell'ANAS, Armani. A fine 2017 potranno partire i lavori del completamento della Siena Grosseto, quindi questa strada tanto attesa, che collega due importanti città-capoluogo della Toscana, ormai è su un binario che arriverà in porto. Crediamo che sia più efficiente del pedaggio sistemi diversi, che sono più efficienti perché sono applicabili su tutte le strade, non soltanto su alcuni chilometri delle strade. Quello è per ora il percorso che stiamo cercando di attivare a livello governativo. Grazie.